Lei su queste tematiche auspica ampia convergenza? Io sì, perché ripeto, una legge più forte quando è voluta da tutti. Questa è una legge importante perché difende davvero tutti, ma non solo, dà pari opportunità a tutti. E non possiamo più far finta che le cose non succedano sul territorio. Siamo nel 2017 e ancora oggi stiamo assistendo a femminicidi, assistiamo a pestaggi contro gli omosessuali. E c'è ancora una cultura in Abruzzo, e non sembra, ma è così, c'è ancora un retaggio vecchio di pregiudizio nei confronti delle donne, di pregiudizio nei confronti di chi ha orientamenti sessuali diversi, che in realtà l'orientamento sessuale non deve assolutamente interessare alla collettività.